E infine parliamo del Quaternario, gli ultimi 2,6 milioni di anni. Se prima questa era considerata una vera e propria era geologica, chiamata Neozoico, in realtà gli scienziati oggi la considerano come l'ultimo periodo del Cenozoico, che comprende il Pleistocene e l'Olocene. Perché gli scienziati hanno definito questo? Perché si pensava che il Neozoico, l'attuale Quaternario, era l'era in cui le ere glaciali e gli esseri umani hanno caratterizzato l'ultimo capitolo della storia della Terra, ma in realtà si vedeva che ere glaciali e primi ominidi già esistevano in pieno Cenozoico, quindi di fatto hanno preferito definire questo Neozoico non come un'era separata dal Cenozoico, ma come un ultimo periodo del Cenozoico, definito appunto il Quaternario, l'era Quaternaria, perché il Cenozoico era considerata l'era terziaria. Il Quaternario comincia ufficialmente circa 2,6 milioni di anni fa, in realtà 2,58 milioni di anni fa, un'epoca in cui le ere glaciali e l'evoluzione della specie umana hanno avuto un ruolo importante tra gli eventi geologici globali, anche se entrambi gli eventi sembrano, come già detto, essere cominciati prima, quindi di fatto non sono proprio caratteristici di questo Quaternario, sono il momento in cui hanno un impatto più pesante su tutto il pianeta, tanto da condizionare l'evoluzione, ma già ere glaciali e esseri umani esistevano nel Pliocene e nel Miocene, quindi in pieno Cenozoico. Com'era il mondo a quest'epoca? Nel Neogene e Superiore i continenti hanno quasi raggiunto le loro posizioni attuali, l'Oceano Pacifico e quello Atlantico sono collegati lungo quello che oggi è la Marica Centrale, e questo permetteva una circolazione oceanica diversa da quella moderna. Dopo l'emersione dell'arco vulcanico dell'America Centrale, cambia completamente la circolazione oceanica globale, e questo avrà pesanti ripercussioni su clima. Vedremo che la nuova configurazione geografica sommata alle variazioni dell'arraggiamento solare causata dai moti millenari, che spiegherò a breve, e alla variazione della circolazione oceanica, mette in moto la complessa macchina d'aeree glaciali, che come vedremo sono periodi molto freddi alternati a periodi molto caldi, quindi un'alternanza di aeree glaciali intervallate da aeree intergraciali. Ho spiegato perché cambia la circolazione oceanica del mondo, in particolare con la chiusura dell'America Centrale, e quindi con la separazione fisica dell'Oceano Atlantico da quello Pacifico, ma in particolare la causa è anche dovuta alla conseguenza dei moti millenari. Abbiamo già fatto in un'altra lezione questo argomento. La Terra subisce l'interazione gravitazionale del Sole e degli altri pianeti del Sistema Solare, in primis Venere perché è vicino e Giove perché è lontano ma molto più grande. L'interazione tra la Luna, Giove e Venere infastidisce i moti della Terra, in particolare crea un insieme di moti, chiamati appunto moti millenari, che si sviluppano e si completano nell'arco di millenni, e sono tre. Questi furono scoperti dall'astronomo Milankovic. Abbiamo la regressione della linea dei nodi lunari, che ha un periodo di 18,6 anni, è il più piccolo, è causato dall'interazione gravitazionale tra la Terra e la Luna, che di fatto fa oscillare in modo ondulatorio l'asse terrestre della Terra. Poi abbiamo il cambiamento della forma dell'obita della Terra, o il cambiamento dell'eccentricità dell'obita terrestre, questo è sicuramente dovuto all'interazione che c'è tra la Terra, Venere e Giove, e vediamo che l'obita terrestre cambia regolarmente la sua eccentricità nell'arco di 21.000 anni. E poi esiste un altro movimento, sempre dovuta all'interazione con gli altri corpi celesti del sistema solare, che è la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre. Questo varia tra i 21 gradi e i 55 primi e i 24 gradi e i 20 primi, l'inclinazione massima dell'asse terrestre, e si completa nell'arco di 40.000 anni. Oggi, per esempio, ci troviamo a un'inclinazione di 20 gradi e 27 primi. La combinazione di questi tre movimenti modifica l'irraggiamento del Sole alle diverse latitudini e in quei momenti in cui queste combinazioni generano un abbassamento dell'irraggiamento solare alle alte latitudini, abbiamo delle stati molto fredde. Quando le stati sono più fredde di 6-7 gradi rispetto all'attuale, abbiamo l'aumento delle calotte di ghiaccio e quindi l'inizio di un'era glaciale, in cui il clima del mondo è molto diverso. Per esempio, durante l'ultima era glaciale, il Sahara era molto più verde, perché con quell'irraggiamento arrivavano a queste latitudini molte precipitazioni e quello che oggi è il deserto più vasto del Peneta, all'epoca era una grande zona verde all'interno di un continente, con questi laghi di acqua dolce che permettevano una ricca vegetazione e quindi anche una grande estensione della vita animale. Quindi vedete come può cambiare moltissimo il mondo. Qui vediamo come diventa il mondo durante queste fasi. Le calotte di ghiaccio occupano vaste aree delle terre emerse e quando un'area così vasta della Terra viene coperta di ghiaccio, riflette luce e calore nello spazio, raffreddando ulteriormente il pianeta. Quindi ogni volta che i moti millenari riducono sensibilmente la radiazione solare alle alte latitudini, abbiamo l'inizio di un'era glaciale. Questo avviene anche quando i continenti si trovano nelle zone polari, che di fatto forniscono ampie superfici che si possono congelare o possono accumulare neve e ghiaccio durante questi periodi di basso irraggiamento solare. Infatti ho già spiegato che le aree glaciali non sono caratteristiche del Quaternario, nel Cenozoico non c'erano nemmeno, ma ci sono stati momenti nel Paleozoico in cui il continente Goduana, che occupava completamente la regione Antartica, forniva un'enorme superficie all'accumulo di ghiaccio e neve durante i momenti di minimo irraggiamento solare alle alte latitudini. Quindi ci sono state enormi glaciazioni anche durante il Paleozoico, proprio per questo motivo. Ma, visto che stiamo parlando del Quaternario, queste sono le aree glaciali degli ultimi 2 milioni di anni. Questi sono caratterizzati da periodi caldi e freddi che si alternano con regolarità. Alcuni sono più lunghi, altri sono più brevi. Ovviamente questo dipende dall'interazione di vari fattori. L'ultima era glaciale è finita poco più di 10 mila anni fa e oggi ci troviamo da almeno 10 mila anni in un'era interglaciale che potrebbe durare ancora 50 o 60 mila anni. Ovviamente i cambiamenti climatici che abbiamo innescato con la nostra civiltà industriale possono in qualche modo influenzare la lunghezza di questa era interglaciale. Inoltre, quando abbiamo un'era glaciale, l'enorme accumulo di ghiaccio sui continenti sottrae acqua agli oceani, il cui livello si può abbassare anche di 150 metri, facendo emergere zone che normalmente sono sommerse. Quando vaste aree emergono, si creano dei ponti di terra che, durante il Quaternario, hanno permesso ai nostri antenati di raggiungere terre lontane. Per esempio, l'Australia è sicuramente stata colonizzata nei momenti in cui l'Indonesia era una gigantesca penisola. Oppure, le Americhe sono state colonizzate dai nostri antenati quando lo stretto di Bering era completamente emerso, permettendo il passaggio dall'Asia alle Americhe, e così via. Infatti, vedremo che le aree graciali hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione degli esseri umani su tutto il globo. L'attuale specie umana, Homo sapiens, è comparso sulla Terra 200.000 anni fa. L'abbiamo già detto nelle slide precedenti. In quel momento, la Terra era nel bel mezzo del periodo interglaciale precedente all'ultima era glaciale, quindi il periodo interglaciale precedente a quello che stiamo vivendo adesso. E questo periodo si chiamava Rieswurm, ed era anche più caldo dell'attuale. In questo momento geologico, comparve l'attuale specie umana in Africa. E quando cominciò la nuova era glaciale, poco più di 100.000 anni fa, le immigrazioni che sono state innescate da questa era glaciale hanno spinto i nostri antenati a muoversi e diffondersi in tutto il globo. Sicuramente l'abbassamento del livello del mare che è avvenuto durante questa era glaciale ha aiutato moltissimo i nostri antenati a raggiungere terre lontane. In particolare vediamo che 100.000 anni fa i nostri antenati hanno lasciato l'Africa, hanno colonizzato il sud-est asiatico, l'India, la Cina e l'Indonesia 70.000 anni fa e l'Europa circa 40.000 anni fa. 25.000 anni fa colonizzarono il resto dell'Asia e 50.000 anni fa invece raggiunsero l'Australia. Poi successivamente le isole del Pacifico e infine 1.500 anni fa arrivarono in Madagascar e Nuova Zelanda. L'America fu colonizzata molto recentemente. 15.000 anni fa i nostri antenati attraversarono lo stretto di Bering che all'epoca era unito sia dai ghiacci che dalle terre emerse a causa dell'abbassamento del livello del mare e poi negli ultimi millenni hanno colonizzato dapprima l'America del Nord e poi l'America del Sud. Qui possiamo vedere come solamente durante l'ultima era glaciale l'umanità si è diffusa in tutto il globo ed era appena comparsa nella precedente era interglaciale appena 200.000 anni fa. Quindi possiamo vedere come l'era glaciale è stato un vantaggio per la nostra specie perché ci ha permesso di attraversare territori separati da ampi spazi di mare aperto che durante l'area glaciale invece si ritiravano lasciando emergere vasti ponti di terra e poi anche seguendo le migrazioni delle loro prede che proprio a causa dei grinti climatici si sono dovuti spostare in tutto il globo. Quindi alla fine questa era glaciale è stata un bene per noi perché ci ha permesso poi di fatto di diffonderci in tutto il globo. però questa è l'attuale specie umana, Homo sapiens in realtà solamente uno delle tante sottospecie umane che si sono generate nel tempo infatti il nostro antenato più comune risale a circa 7 milioni di anni fa era semplicemente una scimmia ma già 5 milioni di anni fa in pieno cianozoico abbiamo un antenato comune di uomo e scimpanzè leggiamo cosa dice questo slide l'antenato più comune sembra essere una scimmia vissuta in Africa circa 7 milioni di anni fa i cui resti fossili sono stati trovati sulle rive del lago Chad tra questo e i successivi antenati non ci sono molte notizie ma le prove successive compaiono in Kenya nel 2000 vissuto 6 milioni di anni fa è il nostro più antico antenato bipede ma tutti gli studi riportano l'origine dell'umanità nel continente africano da recenti analisi genetiche l'unico parente evolutivo ancora in vita è il comune scimpanzè e l'ho spiegato poco fa infatti oggi gli studi paleontologici non si fanno solamente sul confronto dei resti fossili ma anche sulla genetica cioè si va a vedere quanto sono simili i DNA delle varie specie più i DNA sono simili e più le specie sono evoluticamente vicine il scimpanzè ha un DNA che è il 98% identico a quello di un essere umano quindi siamo fortemente imparentati proprio perché fa parte di uno dei rami evolutivi che è sopravvissuto fino ad oggi dall'antenato comune vissuto milioni di anni fa in Africa qui vediamo in dettaglio la ramificazione evolutiva che riguarda proprio il quaternario infatti da poco più di 2 milioni di anni ad oggi e vediamo che l'homo sapiens è solamente l'ultimo di una linea evolutiva di tante ramificazioni evolutive che però è quella che è sopravvissuta fino ad oggi a parte appunto lo scimpanzè un'altra cosa interessante degli esteri umani è che non si limitano a rilasciare solamente testimonianze fossili ma rilasciano anche reperti industriali infatti nel paleolitico i nostri antenati cominciano a costruire degli strumenti e l'evoluzione di questi strumenti va a seguire proprio l'evoluzione della nostra specie qui vediamo alcuni strumenti che sono stati ottenuti dalla pietra infatti tutto il plestocene verrà considerato l'età della pietra ovvero l'età in cui gli esseri umani utilizzavano la pietra come forma di tecnologia da diecimila anni a questa parte quindi nell'olocene cominciano a comparire i primi riti religiosi e i primi accenni di cultura qui troviamo in questo momento storico i dipinti all'interno delle caverne che dimostrano la complessità culturale con cui si stavano sviluppando i nostri antenati tutto questo avveniva solamente diecimila anni fa nell'olocene e questi ultimi diecimila anni sono stati il nostro paradiso in terra infatti gli esseri umani esistono da oltre 200 mila anni l'ho già detto tante volte ma solo negli ultimi diecimila anni hanno sviluppato agricoltura, città, scrittura e civiltà il motivo è climatico qui vediamo una curva che mostra l'andamento delle oscillazioni della temperatura lungo l'ultima era glaciale fino a 100 mila anni fa e vedete com'è variabile l'andamento delle temperature questo rendeva il clima fortemente instabile e quindi di fatto anche se i nostri antenati esistevano già ed erano intelligenti quanto noi di fatto vivevano sopravvivendo alla giornata quindi vivevano una vita di sopravvivenza e possiamo seguire le varie tappe migratorie della nostra specie proprio grazie a queste variazioni interne all'era glaciale qui vediamo quando c'è stato un picco negativo che la nostra specie è uscita dall'Africa poi a un nuovo picco negativo arrivò in Australia poi ancora in altri momenti abbiamo l'arrivo nel sud-est asiatico e in Europa fino a completare tutta l'era glaciale con l'arrivo delle Americhe vedete che queste variazioni di temperatura interna permettevano ai mari di sommergere alcune aree o farne emergere delle altre queste aree che emergevano diventavano letteralmente dei ponti di terra e quindi le variazioni della temperatura interna all'ultima era glaciale creavano quelle spinte migratorie che poi di fatto hanno colonizzato il mondo a ondate durante le ere glaciali il clima della terra era molto instabile e la temperatura variava di 10 gradi ogni 10 anni quindi era una cosa molto diversa da quella a cui noi siamo abituati i pochi esseri umani che popolavano il mondo vivevano sopravvivendo giorno per giorno poi arrivò l'Olocene nell'Olocene per 10.000 anni la terra ha mantenuto un clima stabile che ha avuto una variazione massima di un grado in 10.000 anni questa incredibile stabilità climatica è stato il segreto del nostro successo nonostante gli esseri umani esistevano da 200.000 anni solamente in questi ultimi 10.000 anni l'umanità ha sviluppato l'agricoltura e costruito città e creato le grandi civiltà del passato quindi è stata questa incredibile stabilità climatica che ha reso il mondo molto più abitabile e ha permesso a nostri antenati di poter sviluppare l'agricoltura una volta sviluppata l'agricoltura nasce la civiltà perché pochi individui producono il cibo per tutti e gli altri non avendo più l'onere di vivere giorno per giorno alla ricerca di cibo hanno potuto dedicarsi ad alte attività creando così società più complesse vediamo com'era questo Olocene l'Olocene purtroppo è appena finito l'abbiamo fatto finire noi con i campi telematici innescati dalle nostre industrie ma è stato il periodo più importante per l'umanità perché ha permesso agli esseri umani di potersi stabilizzare costruire città coltivare campi e prosperare com'era il mondo nell'Olocene? c'erano due carotte di ghiaccio perenni e stabili e oggi invece sono in forte ritirata numerosi fiumi e grandi foreste ricchi di selvaggina che sono fonte di cibo per gli esseri umani clima e livello dei mari stabili che non era scontato durante l'era glaciale precedente e che permetteva agli esseri umani di poter stabilire città sulla costa o di poter fare affidamento sulle stagioni per investire nell'agricoltura e poi grande biodiversità una grande quantità e varietà di specie e forme di vita fornivano risorse agli esseri umani quindi questo è stato il nostro paradiso e tutte queste caratteristiche hanno permesso in un modo quasi contemporaneo la nascita di tante civiltà infatti un clima così stabile ha permesso lo sviluppo dell'agricoltura contemporanea in molte zone diverse del mondo dove poi sono fiorite le prime civiltà umane la coltivazione dei cereali è il primo passo con cui una popolazione umana comincia la sua avventura con i primi insediamenti le città-stato e poi gli imperi e qui vediamo che in modo indipendente si sono formate delle civiltà in queste aree nell'America centrale in Egitto in Mesopotamia nella valle dell'Indo e nella valle del fiume giallo quindi in queste cinque zone sono nate in modo spontaneo delle civiltà quasi contemporaneamente e sicuramente questa stilità climatica ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita delle civiltà oggi il mondo è cambiato l'Oloceano è finito e le nostre attività industriali hanno modificato radicalmente il mondo ci siamo creati una nostra era geologica chiamata appunto antropocene era dell'uomo o degli esseri umani cosa succede in questa epoca? metà delle terre abitabili sono adibiti all'agricoltura e allevamento quindi abbiamo distrutto metà degli abitati naturali terrestri per poter produrre il cibo per 8 miliardi di persone spostiamo più roccia e sedimenti di quanto facciano i processi naturali del pianeta l'umanità costruendo città e aprendo cantieri sposta più sabbie e detriti di tutti i fiumi della terra messi insieme poi ancora la pesca è praticata in metà degli oceani e stiamo portando al collasso molti banchi di pesce quindi la popolazione ittica è in crisi il 90% dell'umanità respira aria inquinata in meno di un secolo l'umanità ha riscaldato il pianeta di ottre un grado centigrado anche se già siamo a 1.5 in soli 50 anni l'umanità ha spinto il pianeta fuori da uno stato di stabilità climatica ed ecologica che persisteva da almeno 2000 anni anche se come abbiamo visto durava da molto più a lungo da almeno 10.000 anni oggi è più evidente che mai che le attività umane rischiano di destabilizzare le condizioni che rendono abitabile il pianeta quindi di fatto l'aumento dei gas serri causa un aumento delle temperature che innesca incendi e scioglie le calotte di ghiaccio aumentando il livello del mare inoltre le nostre industrie rilasciano in ambiente sostanze tossiche per la vita tutti questi fattori ci dicono che la terra è prossima a un nuovo evento di estinzione di massa però questo evento potrebbe essere anche peggiore dei precedenti perché è molto rapido entro la fine del secolo nella peggiore delle ipotesi la terra si scaderà di 6 gradi calcolate che anche nelle peggiori delle estinzioni naturali come quella del Permiano un riscaldamento di questa entità si sviluppava nell'arco di millenni non nell'arco di soli 100 anni quindi il riscaldamento che l'umanità sta causando sul pianeta è molto più rapido di quello che abbiamo visto nelle estinzioni passate quindi c'è una grande incognita sul futuro della terra anche perché questa è la prima volta per cui la terra potrebbe avere delle armi con cui combattere questo evento infatti viviamo in un momento in cui la tecnologia sta facendo passi da gigante e questa tecnologia potrebbe avere delle soluzioni a questo grave problema ambientale infatti questa grande estinzione di massa potrebbe essere quella che delimita la vita normale biologica da un futuro in cui la vita sulla terra potrebbe essere sintetica cosa vuol dire vita sintetica ad esempio l'attuale tecnologia di genetica ci permette di poter controllare l'evoluzione delle specie perché possiamo noi selezionare i geni che si possano trasmettere alle generazioni successive oppure addirittura prendere da una specie dei geni e trasportarli in altre specie ci sono scienziati che stanno provando a modificare geneticamente alcuni polipi per creare delle barriere coralline artificiali che possano resistere ai riscaldamenti ambientali in modo da mantenere integro quell'ambiente dove i pesci possono continuare a riprodursi anche in oceani più caldi oppure l'integrazione con parti biologiche questa è proprio fantascienza ancora oggi però sta evolvendo la tecnologia per cui alcune parti di organismi possono essere sostituite da parti meccaniche anche qui tocca vedere che cosa può portare in futuro gli esseri umani si stanno adattando all'ambiente e stanno tentando anche di adattare l'ambiente si stanno piantando milioni di alberi in tutto il mondo per fermare la desertificazione quindi ci sono delle reazioni anche ai mutamenti climatici andando proprio a manipolare poi l'ambiente stesso ancora questa è l'epoca in cui si potrebbe espandere la vita o della terra nel sistema solare è ancora fantascienza ma tutti i progetti che prevedono la colonizzazione di Marte della Luna e degli altri corpi del sistema solare prevede di portare con sé piante e animali per poter produrre cibo nello spazio quindi di conseguenza specie animali vegetali potrebbero essere portate al di fuori della terra e nel tempo potrebbero anche essere modificate geodicamente per adattarsi ad ambienti più ostili poi anche questa è una realtà che si sta concretizzando vita sintetica in ambienti digitali l'intelligenza artificiale che vive nei sistemi informatici in un certo senso potrebbe sotto alcune definizioni specifiche essere classificata come forma di vita perché i programmi sono sistemi di informazione che si riproducono si riparano e si evolvono nel tempo quindi la stessa intelligenza artificiale in un certo senso può essere similata in un sistema di informazioni organizzate come la vita stessa poi l'ho già accennato ma qui lo specifico meglio la progettazione e riprogrammazione di antichi codici genetici con gli organismi modificati geneticamente già oggi gli scienziati stanno creando in laboratorio specie più resistenti di cereali e di altre piantagioni che possano sopravvivere a periodi di siccità quindi un modo per adattarsi ai cambiamenti climatici è modificare geneticamente le piante animali affinché possano sopravvivere in condizioni di stress idrico e di temperatura ancora ho già accennato il caso delle pericolalline ma la stessa selezione naturale può essere pilotata dalla selezione artificiale per poter poi avere specie più resistenti e quindi questo porta alla selezione ed evoluzione di nuove specie biologiche già nella nostra civiltà con l'agricoltura e l'allevamento abbiamo selezionato migliaia di nuove specie di cereali frutta verdura e animali da allevamento ma oggi con le biotecnologie e la scienza della genetica è possibile fare tutto molto più in fretta e molto meglio e poi addirittura c'è chi pensa di poter sostituire le funzioni di alcuni sistemi naturali con sistemi artificiali molti scienziati stanno cercando un modo per intrappolare artificialmente l'anidride carbonica dentro la costa terrestre sia filtrandola dalle ciminiere delle industrie prima che questa venga rilasciata in atmosfera che addirittura costruire dei veri e propri alberi artificiali ovvero dei macchinari che in qualche modo filtrano l'aria dall'atmosfera e estraggano e ne sottraggano l'anidride carbonica trasformandola in un prodotto solido che possa essere poi interrato quindi di fatto nonostante oggi la nostra civiltà stia modificando radicalmente il clima della terra e non solo si stanno anche deneando tante tecnologie e tante possibilità che possano in qualche modo riparare i danni o limitare i danni di questo grande evento dedico solamente una slide a questo argomento perché è ancora pura speculazione ma sono concrete possibilità che si stanno affacciando all'orizzonte riassumiamo tutto il quaternario in questa mappa concettuale il quaternario è quel periodo che va dagli ultimi 2,6 milioni di anni fino ad oggi in particolare 2,58 milioni di anni fa ad oggi ed è caratterizzato da alterazioni di periodi glaciali e interglaciali lunghi anche decine di migliaia di anni queste causano migrazioni variazioni del livello del mare ed estinzioni delle specie nell'evoluzione umana che è l'altro grande fenomeno che avviene in questa epoca c'è stato un vantaggio da parte di queste aree glaciali l'evoluzione umana comincia con la comparsa del genere Homo 2 milioni di anni fa anche se c'era già un alternato comune che era una scimmia fino a 7 milioni di anni fa comparsa dell'attuale Homo sapiens sapiens 200 mila anni fa quindi 0,2 milioni di anni fa molto poco tempo fa nel bel pieno dell'era intergraciale precedente a questo quindi prima dell'ultima era graciale e l'evoluzione umana è studiata dalla paleontologia che si basa sia sui resti fossili effettivi dei nostri antenati che sui resti dei loro prodotti elaborati che sono per lo più strumenti di pietra poi tutti gli strumenti più elaborati della pietra costituiti da metalli elaborati avvengono poi negli ultimi migliaia di anni sono molto più recenti questo è solo un estratto della lezione completa sulla storia della terra nella lezione completa parlerò del concetto rivoluzionario che vede la terra come un sistema integrato complesso tra più sottosistemi in cui c'è uno scambio costante e continuo di materia ed energia tra atmosfera biosfera idrosfera e litosfera che rende di fatto unico con la sua biosfera il nostro pianeta nel sistema solare parleremo dell'importanza che hanno avuto i fossili ma non solo nella determinazione e nella scoperta della storia affascinante che ha interessato il nostro pianeta una grandissima parte della lezione sarà dedicata al fanerozoico l'era della vita manifesta e complessa che è quella anche che conosciamo meglio essendo la storia più recente della terra degli ultimi 550 milioni di anni e poi ancora parlerò soprattutto dei grandi eventi di estinzione di massa che hanno interessato il nostro pianeta e che hanno determinato l'evoluzione della vita sulla terra trovate questo e tanto altro ancora sul mio canale youtube e sulle mie pagine instagram e facebook prof Antonio Lo Iacono grazie grazie Grazie.